è ormai notte fonda quando stando al racconto della mamma di nicole la bambina avrebbe lasciato questa abitazione saltando dalla finestra qualcuno era qui l'ha presa e l'ha portata via o lei ha percorso questo tragitto da sola per poi avviarsi verso la zona in cui è stata ritrovata noi vogliamo provare a ripercorrere quel tragitto lo facciamo in macchina proprio per farvi vedere quanto sia distante quel luogo dalla casa in cui era nicole abbiamo i fari spenti attorno a noi soltanto buia e notte ci domandiamo una bambina di cinque anni può aver percorso questo tragitto da sola siamo arrivati in prossimità del luogo in cui la piccola è stata ritrovata spendiamo ancora una volta i fari e vediamo che cosa c'è intorno il nulla nonostante questo faro che mi illumina la strada devo dire che non è affatto facile muoversi qui soprattutto perché questa è una strada fangosa possibile non sporcarsi quella sera aveva nevicato faceva molto freddo quindi qui c'era davvero tanto tanto fango come possibile che le sue scarpe presentassero soltanto alcune piccole tracce di terra sotto la suola ma nulla di più ed eccolo qui il punto esatto in cui la bambina è stata ritrovata maria grazia anche questo un mistero ieri a lungo non ho parlato ha parlato con noi dicendo che secondo lui potrebbe esserci qualcuno che vuole vendicarsi voleva vendicare del del genere io non ho capito bene perché abbia detto tutto questo mi auguro che lo dica poi agli incurenti più di dirlo in televisione beh questo è quello che sta riferendo nicola il nonno della piccola nicola come giustamente sottolineato ieri ha parlato a lungo con noi questo lungo sfogo questa lunga chiacchierata durante la quale ha esternato i suoi sentimenti ma ha lanciato anche delle accuse delle accuse a volte anche piuttosto pesanti ebbene queste accuse lui dice comunque di aver raccontato tutto agli investigatori ha sottolineato più volte ho raccontato tutto ed ho firmato quello che ho detto quello che ho raccontato perché dice questo perché è stato proprio il primo a dire c'è qualcosa che non va nella scomparsa della mia nipotina nella scomparsa di nicole eleonora vorrei soltanto farvi vedere una una cosa importante ieri sera abbiamo fatto quel servizio siamo andati nel luogo vorrei mostrarvi le mie scarpe guardate sono ancora nelle condizioni in cui erano ieri sera ciò a dimostrazione del fatto che quella zona anche se non non piove da alcuni giorni è rimane una zona fangosa per cui come è possibile che le scarpe della bambina fossero pulite e soprattutto è possibile che una bambina di cinque anni abbia oltrepassato quella finestra insomma questa cosa se la chiede anche nonno nicola ed è soprattutto lui a chiederselo dopo essere stato con noi è entrata a casa di sua figlia ha parlato a lungo con sua figlia con suo genero perché sua figlia e suo genero sono in casa la bambina non è qui in questo momento sta tornando alla vita di tutti i giorni sta tornando a scuola e si trova a casa di un familiare però lui dice sono stupito perché mia figlia e mio genero sono tranquilli estremamente tranquilli sono tranquilli come se nulla fosse accaduto queste sono le parole di nonno nicola perché tanti dubbi a quest'uomo che cosa c'è dietro alla scomparsa di nicola che cosa c'è che cosa non è emerso finora devo dire che gli investigatori la procura di campo basso così i carabinieri carabinieri di campo basso e di boiano stanno facendo un lavoro incredibile lavorano incessantemente dal giorno della scomparsa della piccola quindi stanno cercando di ricostruire il tutto anche attraverso le planimetrie della zona ma al momento insomma non si sbilanciano non si sbilanciano e a volte insomma ci fanno capire che stanno andando avanti e si stanno andando avanti in una certa direzione nonno nicola ieri dopo la nostra intervista ha lanciato un'altra accusa o un'altra perplessità ha detto e se la bambina fosse stata narcotizzata dagli investigatori non arriva alcuna conferma certo è che dopo il ritrovamento della bambina la piccola è stata sottoposta al test è stata sottoposta ad un test per verificare davvero la presenza di sostanze non conosciamo il risultato però il nonno se lo chiede e se fosse stata davvero narcotizzata perché dice questo perché la bambina non ricorda assolutamente nulla di quelle ore di quelle lunghe 13 ore 13 ore che stando alla ricostruzione naturalmente della mamma le avrebbe passate fuori all'esterno in quella zona se abbiamo tempo leonora ecco facci capire anche la disponibilità noi potremmo andare potremmo andare rapita portata in un posto poi riportata lì cioè con tutta la gente che stava cercando mi sembra veramente ecco non lo so un po troppo le allarme scattato immediatamente molto sì una ricostruzione particolare devo dire l'allarme scattato immediatamente forse qualcosa è così è andato in un modo diverso forse doveva essere chissà insomma non vogliamo neanche immaginare certo è che immediatamente si è pensato ad una una bambina può non ricordare magari non so allora vi do dei dati così proviamo una bambina di cinque anni certo considerate che i nostri bambini cominciano ad immagazzinare i ricordi coscienti dai due anni e mezzo tre da quel momento in poi cognitivamente sono capaci di costruire una storia che abbia più o meno una sua coerenza in questo caso specifico io farei due tipi di riflessioni la possibilità che abbia dimenticato c'è in psicologia ha un nome si chiama reazione dissociativa cioè quando hai un trauma quello che succede è che per metterti in protezione la mente manda in cantina dove tu non puoi più avere accesso a quanto di brutto ti è successo quanto ti è capitato in modo che tu tutto sommato possa non andare in frantumi non significa che il ricordo non riemergerà mai ma bisognerà fare un lavoro di grande mestiere la seconda ipotesi che metterei sul piatto e che alla bambina sia stato chiesto di dire che non è successo niente che non ricorda niente e questo può essere avvenuto perché di fatto ha paura e qualcuno le ha chiesto un patto di lealtà io temo che sia la seconda la seconda perché sul fatto che sia stata narcotizzata insomma poi avrebbe dovuto vedete lì c'è la finestrella avrebbe dovuto scendere da quella finestrella aspetta rimettiamo un attimo in diretta dove nostra maria grazia sarrocco buttarsi giù da sola come dice il nono dice qualcuno ha bussato lei ha aperto ma se qualcuno bussa qualcun altro dovrebbe aver sentito la mamma nell'altra stanza avrebbe dovuto aver sentito se qualcuno bussava con forza in quella in quella finestrella eccola la vicino alla macchina la vedete cosa se fosse come una dimostrazione cioè sta è un fatto che per dire guarda che noi siamo capaci di fare questo sì questo ha detto il nonno il nonno ha detto proprio cioè ha portato avanti proprio questo tipo di ipotesi perché secondo lui invece la mamma era dentro non si era allontanata parlando magari con la bambina come stiamo facendo un gioco è un gioco fra di noi ma la mamma in un primo momento aveva detto che dormiva poi dopo ha detto che si era allontanata e che aveva un imbarazzo a dire che cioè che si era allontanata ma se qualcuno bussava e voleva rapire la bambina dove lo prendeva il cappottino della bambina le diceva vai a prendere il cappotto mettiti il cappotto vieni via ma se fosse vero questo doveva entrare in casa doveva prenderla vestirla mettere e portarla via il che qualcuno se ne sarebbe accorto sì però è tutto un po come dire improbabile a me dottoressa sembra anche improbabile che la bambina sia uscita da sola si sia buttata da quell'altezza della finestra e assolutamente come dice ma no a me scusa mi faccia finire perché è che si sia pure andata a prendere il cappotto per uscire e perché a lei no dottoressa andreoli perché mostrate la finestra maria grazia mi mostri la finestra in diretta dove si è buttata perché secondo il nonno questa bambina cos'è un metro un metro e mezzo adesso io non riesco a capire bene da qui le ala non si sarebbe buttata da lì perché non l'aveva mai fatto una bambina di cinque anni salta lì ma certo sì allora dottoressa il nonno dice di non aver beh a me di solito piace parlare delle cose che so quindi in questo caso evidentemente non sono un investigatore però conosco i bambini è un bambino di cinque anni intanto se davvero non noi scoprissimo che la madre si era allontanata quello che fa è andarla a cercare e quindi è plausibile che sia della fine perché una bambina di cinque anni vuol dire che all'ultimo anno della scuola dell'infanzia l'anno prossimo va alla primaria cioè non abbiamo in mente i bambini come se fossero in quanto piccoli necessariamente sciocchi quindi secondo me scusate dico solo questo la cronaca in realtà in passato ci ha raccontato di bambini che hanno passato anche più piccoli di questa la notte l'adiaccio senza riportare lesioni di sorta quindi assolutamente tutte le versioni sono al vaglio in questo momento le ipotesi devono rimanere aperte però sono c'è un ci sono due aspetti da una parte un integrativo di quello che diceva prima cioè non soltanto la memoria ma anche la coscienza dei bambini in quell'età è molto malleabile e quindi una ricostruzione fornita da una persona cara diventa veritiera e questo è un elemento importante l'altro elemento è capire la confidenza che questa bambina aveva con quel tipo di spazio ovvero era già successo che la bambina uscisse dalla finestra era un gioco che faceva oppure era un'eccezionalità ancora più paradossale a quell'ora in quelle condizioni mi immagino che gli inquirenti lavorino su questo spazio Maria Grazia comunque adesso c'è questa indagine in corso è indagata la mamma di fatto è indagata per abbandono di minore ad oggi cioè l'ipotesi più plausibile che questa mamma si sia allontanata per non so quale motivo abbia lasciato questa bambina incustodita e la bambina sia uscita per come dice l'autore Sandrioli per come dire andare a cercare la mamma che non trovava più per cui ci sono se ci fosse stato per esempio un diverbio fra la mamma e la bambina e la bambina ha voluto ha voluto far dimostrare alla mamma ti faccio adesso io sparisco me ne vado questo dice la mamma che lei l'aveva l'infamma però avrebbe dovuto però nascondersi in un posto sicuro per tantissime ore perché lo stato di saluto in cui è stata ritrovata questa bambina qual'era Maria Grazia? era in buone condizioni di salute la bambina non aveva graffi sul corpicino i suoi abiti erano intonsi non aveva assolutamente non c'era fango non aveva assolutamente nulla esatto come è possibile che la bambina è andata a cercare la mamma? questa è la domanda che si chiedono tutti è davvero andata a cercare la mamma? qualcuno qui all'esterno era presente? l'ha presa? l'ha portata via? l'ha portata lontano? vorrei soltanto precisare una cosa in merito alle dichiarazioni della mamma ebbene la mamma nell'immediatezza ha raccontato di trovarsi in un'altra stanza con il bambino più piccolo lo stava allattando questo è quello che ha detto e successivamente avrebbe detto e voglio sottolineare è importante usare il condizionale avrebbe detto di essersi allontanata dall'abitazione non sappiamo eventualmente per quanto tempo lei abbia lasciato l'abitazione certo è che la bambina sarebbe scomparsa tra le 21 e 30 e le 23 in questo arco di tempo si è allontanata davvero e dove è andata? la bambina è rimasta da sola in casa o il fratellino era in casa con lei? anche questo non è al momento possibile saperlo e conoscere esattamente i dettagli rimani collegata con noi, datemi solo 40 secondi di pubblicità fra poco ritorneremo sui nostri casi di cronaca i nostri ospiti rimangono fra poco ci sarà anche Albano in diretta vi aspetto, 40 secondi e siamo con voi possiamo chiedere